siamo giunti adesso quarto incontro e siamo già a 3 a 0 e con questo ma i piedi ci avete freddo i piedi riscaldatevi i piedi tutti insieme con i piedi con i piedi con le mani con le mani tutti insieme siamo già a 3 a 0 per Don't Take One a Milano Thunder fantastico stasera quarto incontro ladies and gentlemen categoria pesi medio massimi light heavyweights 85 kg clemente vi stai ascoltando fratello 85 kg light heavyweights direttamente da istanbul angolo blu 20 anni con un peso di 84,4 kg altezza a 1 metro e 85 cm vincitore del match contro il paris united della germania per voi ladies and gentlemen Enrico Colling all in the ring thank you very much Enrico Colling from Istanbul Louisацию here he is arriving there is 0 Daring will call in view On the screen Reminds me of Mohamed Ali Flying like a butterfly and stings like a bee Ja, benvenuti con la plaza No, no Hoppettate tonight, direttamente Isamos 20 years old 84.4kg, 1kg 1m 85kg He won against the Paris United Please welcome Mr. All Way From Germany Enrico Cawing Pioni Trotture Nostro Fugiliche Jogger in Casa Before introducing the next athlete, the next boxer from Milano Thunder I'd like to say hello again to the President of the AIBA here with us tonight Mr. Dr. Vu Un applauso al President della AIBA con noi I'd like to say hello again to the World Wrestling Series And now ladies and gentlemen Angolo Rosso From Dolce & Gabbana Milano Thunder 26 years old 84.3kg 1.88m Sconfitto Sconfitto For the 7th World Champion Letonia Ladies and gentlemen Please welcome Nicolai Sconfitto Nicolai Nicolai Sconfitto 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 26 years old 26 years old He weighs 84.3kg He is 1.88cm tall He lost a match in Moscow He gave equipment beers But he is 7th time world champion All the way from Letonia Clemente Un altro grande amico che conosce benissimo Diamo l'urlo un applauso per Mr. Nicolai Guccini Sempre con il Paese Giammiani Numero 1 Thank you Thank you Thank you Thank you Thank you Thank you Scusate! Scusate! Sì, vediamo il gioco. Grazie a tutti, grazie. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. este metro tu sei molto bene tu credi dito Scriviti rapido le russi! Grazie a tutti! 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 Grazie a tutti!